Beppe Bigazzi ci ha lasciato. Lutto nel mondo della televisione per la scomparsa di Giuseppe Bigazzi, esperto di gastronomia, diventato un volto della tv grazie alla partecipazione alla prova del cuoco con la conduzione di Antonella Clerici. Beppe Bigazzi era nato a Terra Nuova Bracciolini il 20 gennaio 1933. Aveva 86 anni. Aveva iniziato a dedicarsi alla sua passione gastronomica curando dal 1997 al 1999 sul quotidiano Il Tempo la rubrica luoghi di delizia. In televisione fino al 2000 aveva partecipato a una mattina con la rubrica la borsa della spesa, poi la prova del cuoco insieme ad Antonella Clerici. Nel 2010 fu al centro di un caso ricco di polemiche per essere stato sospeso dalla RAI dopo aver dato consigli su come cucinare i gatti. Dopo la prova del cuoco era passato a Sky sul canale Alice ed è stato co-conduttore del programma Bischeri e Bischierate. La notizia della scomparsa di Beppe Bigazzi si è diffusa rapidamente soprattutto in Val Dardo e Terra Nuova Bracciolini, già tantissime le dimostrazioni di affetto nei suoi confronti per un personaggio particolarmente amato.